In questo sincero momento. Il popolo americano è fianco a fianco con gli israeliani. Ricordiamo il dolore derivante dagli attacchi terroristici a casa. E gli americani in tutto il paese sono uniti contro questi atti malvagi che ancora una volta hanno causato la morte degli americani innocenti. È un oltraggio. E continueremo a dimostrare al mondo che il popolo americano non ha rivali nella sua determinazione. Ad opporsi al terrorismo in tutte le sue forme quindi Joe Biden in una nota sugli attacchi di Hamas. I legami tra Israele e gli Stati Uniti sono profondi. È un fatto personale per molte famiglie americane sentono il dolore questo le cicatrici imposte da. Millenni antisemitismo la persecuzione del popolo e Jewish. Gli Stati Uniti lo Stato Israele. Conclude sono partner inseparabili ieri ho ribadito al primo ministro Netanyahu che gli Stati Uniti continueranno a garantire Israele abbia ciò cui ha bisogno per difendere se stesso il suo. Popolo.